ecco a voi il nodo di grav prendo una normalissima corda ok con questa corda faccio la forma di un otto di questo otto la parte sotto la alzo fino ad unirla con la parte sopra ci rimane un capo della corda per fare bene il nodo questo capo della corda lo infilo nel giro che abbiamo fatto poi lo incastro nella parte laterale come vedete è incastrato se il tiro infatti si blocca ed ecco a voi il nodo di grav provate a ripeterlo ciao a parte che fa cagare